buongiorno sono giorgio consulente renault di gruppo carmeli oggi ti presento renault zoe nella versione top di gamma intens r135 la piccola francese è spinta da un motore elettrico da 136 cavalli e con batterie ioni di litio da 52 kilowatt che permette di avere un'autonomia di 386 chilometri nel ciclo vl tp la vettura si presenta con una lunghezza di 4,08 metri con una larghezza di 1,73 metri e con un'altezza di 1,56 metri nello specifico la vettura in questione si presenta nella colorazione grigio magnete il presente inoltre cerchi in lega da 16 la frenata d'emergenza riconoscimento ciclisti pedoni sistema multimediale easy link da 9.3 pollici con navigatore radio dabb cruise control fendinebbia led con illuminazione dinamica in curva sensori anteriori posteriori e retrocamera e fare automatici full led con tergicristalli automatici se ti è piaciuto questo video lascia un commento qui sotto o chiamalo 030 77 24 011 i nostri consulenti saranno a tua disposizione